Dopo tre settimane senza fare video torno su Youtube perché avevo deciso che fare esami mi stava veramente stancando E quindi con quale video migliore se non raccontandomi la nostra vita ora? Raga ma che caldo fa? Ma ti pare che studio con sto caldo? Bella l'estate, bella e vai a prendere i libri, vai in biblioteca, studia la notte, Filippo fai questo, Filippo fai quello, bellissimo Scusate una domanda inerente alla sessione estiva, ma Temptation Island quando ricomincia? Senti ma quest'anno tu dove vai in vacanza? Ah carina questa, sei simpatico perché ti inoltri in un percorso a ostacoli In che senso scusa? Beh se non passo gli esami non ci vado, se li passo non ho soldi, se li passo e ho soldi non ho amici Però sei simpatico, davvero Oh no 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 non mi disturbare, ti prego sto andando a studiare, non ho tempo Ma sto Sarri che è andato all'Inter, parte che è andato alla Juve E allora lo vedi che mi ascolti? Dai parliamo un po' di Sarri Che esame sto preparando? Mi chiedi che esame sto preparando? Beh per me ormai non c'è più un esame da preparare, ogni giorno è uguale all'altro Si va avanti così, uno dopo l'altro Per me i giorni non sono più 20 giugno, 4 luglio, no Sono meno 5 giorni all'esame, tipo oggi è meno 4 giorni all'esame, domani è meno 3 giorni XD Ma con sto caldo, no, studiando tutto il giorno, mi stavo chiedendo Ma Pamela Prati, alla fine, si è sposata? Ma poi io vedo che ora sono già tutti in vacanza, tutti in mare Ma che cazzo di università fate? Scienze della minchia Si e vai, ho appena passato un esame Bisogna festeggiare Com'è? Studiando per quello di dopo domani Vai! Ogni studente che si iscrive a questo canale avrà la benedizione di San Filippo fuori corso Qui non si iscrive, non si laurea Ma è una laurea